Ripartire dall'ottimo fatturato della scorsa stagione nel girone A di eccellenza, archiviato a un passo dalla finalissima regionale per il salto in Serie D e farlo con la possibilità di programmare sin dal primo giorno della nuova stagione, sono le componenti che hanno griffato il matrimonio tra Francesco Passiatore e il Biscegli, rinnovato con vista sull'annata sportiva 2023-24. L'allenatore Tarantino ha esposto ai microfoni di Telesveva le parole chiave della sua filosofia in panchina, spirito di sacrificio, disponibilità al lavoro e ambizione. Queste le componenti che saranno ricercate per aggiungere a quell'organico, capace di ottenere dieci vittorie e due pareggi e incassare una sola sconfitta nel girone di ritorno, quello affrontato sotto la guida di Passiatore e di fermarsi solo dopo i due pareggi senza reti maturati nei play-off contro Corato e Manfredonia. Alzare l'asticella sarà un imperativo e in casa Biscegli hanno già avuto il via le manovre per confermare l'intellaiatura dell'annata precedente. Tre i nomi individuati dall'area tecnica per assicurare continuità tra passato e futuro, il portiere Stefano Tarolli, 26 anni e oltre 70 presenze in carriera tra professionisti e Serie D, il centrocampista classe 96 Simone Fanelli e il 32enne Orazio Stefanini, esterno d'attacco di qualità e fisico a segno due volte nella scorsa stagione. L'intesa per andare avanti insieme con la società presieduta da Vincenzo Rakanati potrebbe essere ratificata già nei prossimi giorni, poi sarà tempo di studiare i margini per proseguire il rapporto con altri giocatori chiave della scorsa annata, in particolare dalla tre quarti in su, è il caso di De Vivo, D'Ambros, Bonicelli e Di Rito. Intanto le certezze riguardano lo staff che lavorerà con passiatore, il vice allenatore sarà Gianni De Liso, classe 1979, già match analyst nella scorsa annata, con esperienze pregresse nei settori giovanili di Wonderful Bari, New Football Academy Bari e dello stesso Bisceglie. Nel ruolo di preparatore atletico è stata rinnovata la fiducia per la seconda stagione al 28enne Andriese Nico Ciciriello, un passato nel settore giovanile della Fidelisandria. A completare il terzetto di conferme c'è il preparatore dei portieri Ruggero D'Amato, al secondo anno di fila a Bisceglie ed ex portiere del club nerazzurro stellato in eccellenza all'alba del terzo millennio.